Ricucire introterra e mare tra parchi, mobilità sostenibile ed aree rurali. Con questo obiettivo, dalla collaborazione tra il Parco delle Serre, il Parco Marino Regionale, i Tre Galla, Terre Vibonesi, Sere Calabresi e Terre Locridee, nasce il Cammino del Normanno, progetto pensato, come spiega il Commissario del Parco Regionale e Naturale delle Serre, Alfonso Grillo, per la realizzazione di un cammino che unisca i territori dell'area protetta con la costa ionica e quella tirrenica calabrese. Con l'idea del Cammino del Normanno, il Parco delle Serre diventa protagonista della promozione del territorio? Sì, noi spesso siamo inconsapevoli rispetto a un territorio che dal punto di vista culturale e storico ha dei luoghi di interesse importantissimi. Come Parco Regionale delle Serre, insieme devo dire anche ai tre Galla, quello Vibonesi, della Locride e di Serra, abbiamo praticamente immaginato un progetto che potesse integrare, anche dal punto di vista rurale, ambientale e spirituale, i territori delle aree interne rispetto al contesto delle coste ionico e tirrenica. E allora è venuto fuori questo progetto che alla fine in sostanza ricalca quella che è la storia di Ruggero I d'Altavilla. E quindi abbiamo dato il nome di Ruggero in Normanno, anche perché all'interno di questo progetto c'è una serie di iniziative che saranno svolte su territori tipo Arena, Stilo, Vibo, Valencia, dove risiedono luoghi importantissimi dal punto di vista storico del periodo normanno, sono i castelli. E quindi intendiamo attraverso questo percorso attirare tutta quella popolazione di turisti che vanno sulla costa facendogli assaporare le aree interne attraverso la spiritualità, la natura e la gastronomia.